Premio impresa ambiente, siamo con due donne, come potete vedere perché la Green Economy è anche in rosa e sono le vincitrici per la menzione speciale come miglior prodotto. Sono Susanna Martucci, amministratrice di sub, benvenuta su Green Beads, e la designer del prodotto, Marta Giardini. Parliamo di questo prodotto, si chiama Perpetua, è una matita ormai assolutamente brandizzata. Di cosa si tratta? Innanzitutto, una parola, qua manca una persona, si chiama Andrea Zandonà, che insieme a noi ha brevettato il materiale con cui è fatta Perpetua. Perpetua cos'è? È chiaramente una matita, Perpetua è un oggetto semplice ma altamente innovativo. Una delle spese che abbiamo dovuto sostenere sono stati i brevetti di Perpetua che noi non ci aspettavamo. Fondamentalmente nasce da una filiera per cui recuperiamo annualmente 12 tonnellate di grafitte che deriva dalla lavorazione degli elettodi per lo stampaggio, quindi in forma di polvere e con questa per l'80% è la materia prima con cui facciamo Perpetua. Perché Perpetua fa bene all'ambiente quindi? Perpetua fa bene all'ambiente perché queste 12 tonnellate di grafitte altrimenti sarebbero state seppellite sottoterra. La grafitta è un materiale inerte però evidentemente se non viene seppellita sottoterra va bene. E soprattutto un po' quello che vogliamo lanciare come messaggio è che sul nostro territorio abbiamo un sacco di materiali che possono essere utilizzati, che possono diventare materie prime per la produzione di altre aziende. Quindi uno dei nostri impegni è di creare connessioni tra chi ha materiali di scarto e chi invece deve produrre in modo che queste aziende facciano rete per produrre sul territorio italiano risparmiando i costi della materia prima. Quanto conta il design in un prodotto sostenibile? Conta naturalmente perché oltre a essere buona è bella. Come è riuscita a mettere tutto questo dentro una semplice matita che però semplice non è? Sì, volevamo che fosse come iconica per cui un'icona, la matita che può essere sfaccettata o tonda abbiamo aggiunto solo una sfaccettatura in modo che non rotolasse via, così, forma pulita. L'altra caratteristica molto importante è che la gomma continua la forma della matita, non ha interruzioni, fascette o altre cose. Non è incollata soprattutto, perpetua, non ha uso di vernici, non ha nessun uso di colle per la gomma per cancellare e soprattutto non fa rifiuti e sa stessa, cioè recupera rifiuti e a sua volta tutto il materiale di scarto viene rimesso per fare un'altra perpetua. Complimenti ancora, a presto su greenbiz.it. Grazie.